Nella maggior parte di questi casi, le morti sono intervenute per altre ragioni. Ecco, parlo di me, faccio un esempio su di me, se io ho 94 l'anni e sono cardiopatico, e ho il diabete, e ho la bronchite cronica, e me ne vado al creatore, il coronavirus mi ha accompagnato nel viaggio, ma niente di più. Questa della tamponite è diventata una malattia, non facciamo i tamponi a tutti quanti. Devo però dire con estrema convenzione che noi abbiamo salvato la campagna, abbiamo salvata. Vendendo il sangue e il tardo da chi ha lavorato in due mesi per salvare questa regione da un disastro possibile. No Vendendo il sangue